Sabato 10, domenica 11 giugno, presso il parcheggio delle Mura Spagnole di Viale Gorizia, prenderà in via il primo trofeo di basket 3 contro 3, con più di 40 squadre in competizione. Lo sport tra la gente fuori dai soliti palazzetti. Il torneo 3 contro 3 è un esempio perfetto. Sì, assolutamente, ed è un progetto che abbiamo in relazione a tante discipline. Questa sarà una delle prime, ma sono state anche altre discipline che hanno potuto usufruire dei nostri spazi bellissimi all'aperto in cui esibirsi. Questo torneo avrà come scenario uno dei posti sicuramente più caratteristici della nostra città, le Mura Spagnole, il parcheggio di Viale Gorizia. Abbiamo pensato a questa location per questo evento che coinvolgerà tantissimi atleti, un numero impressionante di atleti per essere alla sua edizione, la prima edizione qui a Pavia, tantissimi atleti. Abbiamo pensato appunto a questo spazio perché non sarà soltanto una festa di sport, ma sarà una festa in tutti i sensi, con una serie di... ci sarà del cibo, ci sarà musica. Quindi veramente due giorni di sport e divertimento, l'insegna del stare insieme, l'insegna del trascorrere un paio di giornate in allegria e diversa in un contesto molto bello della nostra città. Devo ringraziare gli organizzatori che ci hanno sempre messo veramente tanto entusiasmo e voglia e tutte le volte, lo dicevano, come dicevano anche prima, tutte le volte che arrivava una loro richiesta, una volta che gli era stato concesso, subito dopo avevano un'altra iniziativa. E' molto bello questo, al di là dell'impegno che comporta per i nostri uffici, però poi alla fine la soddisfazione è condivisa ed è di tutti. Perché un torneo di basket 3 contro 3 e come nasce il progetto? Un torneo di basket 3 contro 3, intanto inizio a ricordare il nome Baser Beater 3x3, sarà l'evento che a Pavia andrà a divertire tutta la città. Abbiamo scelto questo sport perché sostanzialmente tre anni fa, con Underdogs, la società che io e Edoardo Pagetti, che non è qui presente, ma è tra gli organizzatori, abbiamo fondato, è lo sport che ci appassiona, è lo sport della gente, è dello sport soprattutto che non ha categoria, in cui il giocatore di Serie A se la può giocare con i giocatori di Serie D o anche sotto, è un momento di divertimento che convoglia davvero tante persone, che va oltre lo sport, che crea amicizie, e quindi onestamente questo spirito che si viene a creare, soprattutto appunto d'estate, è secondo me il motore che fa avanzare questo movimento. Io ci tengo tanto che il 3x3 diventi uno sport a tutti gli effetti riconosciuto, come già è stato due anni fa con le Olimpiadi, ma deve sempre prendere più piede perché questo appunto voglia di vedersi l'estate, di passare del tempo assieme, in campo ci si mena e poi fuori dal campo invece si è amiconi, è davvero un'emozione che secondo me è fuori dal normale. Il progetto nasce dalla volontà di ridare qualcosa, di ridare un evento sportivo alla nostra città, sia io che Matteo che Edoardo siamo tutti pavesi, tutti appassionati di basket, ci siamo incontrati sui campi quando eravamo più giovani, ci rincontriamo oggi quando facciamo i tornei estivi 3x3 e questa passione comune che abbiamo e l'amicizia che ci lega ci ha portato a decidere di investire in questa cosa, di metterci un sacco di impegno proprio per dare alla città di Pavia che da prima del Covid non ha un evento nello specifico di pallacanestro all'aperto del genere qualcosa che potesse reanimarla. Come ha detto giustamente Matteo è un modo per unire le persone, per fare sport ma per creare anche un evento che non sia solo basket ma che sia anche musica, cibo, buona birra, stare insieme. Questo è il motivo, la spinta, la carica che ci ha dato per creare questo progetto.